La gestione e l'organizzazione della scuola per i dirigenti scolastici e per i docenti diventa ogni anno sempre più complessa, perché la progettualità favorita dall'autonomia organizzativa e didattica, la politica di miglioramento continuo e la valutazione centrata sui risultati mediante la reddicontazione sociale che ogni anno nell'arco del triennio è necessario fare, hanno reso necessario anche l'istituzione di figure di coordinamento che possano stare al fianco del dirigente per sostenerlo in questa complessa organizzazione della scuola. Diventa anche per i dirigenti un compito molto difficile la gestione anche di tutte le aree che ci sono all'interno della scuola, dall'area didattica all'area anche della gestione dei progetti, dall'area anche del miglioramento continuo, tutte le aree diciamo sia di gestione che di organizzazione che di didattica all'interno della scuola hanno bisogno di avere delle figure apicali, di avere delle figure di coordinamento che possano appunto anche aiutare il dirigente ad avere continuamente il polso della situazione. L'organizzazione, quindi un'organizzazione della scuola che possa essere anche funzionale ed efficace passa attraverso anche la qualità anche dell'organizzazione stessa e quindi attraverso anche le figure di coordinamento che possono rendere più agevole anche il cammino organizzativo della scuola. Per questa ragione diciamo le figure di coordinamento ormai nelle scuole, in tutte le scuole italiane sono una realtà, anzi diciamo tranquillamente che non vi sono scuole che non hanno figure di coordinamento, proprio perché le figure di coordinamento sono indispensabili per far camminare questa macchina complessa che è appunto la macchina organizzativa delle istituzioni scolastiche. In maniera particolare di quelle istituzioni scolastiche anche più grosse, più complesse che hanno molti docenti, che hanno anche molte sezioni e che hanno anche all'interno molti indirizzi. Ecco però non è facile anche scegliere le figure di coordinamento, non è facile anche ricoprire il ruolo di coordinatore perché è necessario per coordinare un team che ci siano anche delle competenze che di gestione, di organizzazione, di dinamiche di gruppo, di competenze specifiche che devono essere possedute. E per fare questo è necessario anche acquisire queste competenze per chi magari si affaccia anche a questo incarico, oppure per chi magari non ha esperienze progresse o non ha molta esperienza anche nel campo della didattica, è necessario, o della gestione anche della scuola, è necessario che queste competenze vengano acquisite. Per esempio il coordinatore di un gruppo di lavoro deve sapere sviluppare collaborazione tra tutti i componenti e produrre anche una fiducia reciproca all'interno del gruppo stesso, deve sapere anche valorizzare le competenze di ciascuno, deve sapere anche sostenere con discrezione anche le persone, i colleghi che non sono molto pronti all'innovazione, che magari hanno paura dell'innovazione e che magari non sono pronti a scommettersi. Il coordinatore di classe, il coordinatore di indirizzo, il coordinatore di plesso, il coordinatore di dipartimento oppure il coordinatore anche di commissione di progetti o il coordinatore dell'educazione civica, tutti quanti appunto hanno bisogno di acquisire delle competenze specifiche, perché sono delle figure determinanti nella gestione e nell'organizzazione della scuola. Anche se l'incarico che ricoprono è un incarico non obbligatorio, perché chiaramente è un incarico aggiuntivo che viene loro dato, però è un incarico di grandissima importanza, perché fa la differenza tra una buona e una cattiva organizzazione della scuola. Allora, pensiamo anche alle funzioni strumentali, per esempio, ormai credo che non ci siano più scuole che non hanno le funzioni strumentali. Le funzioni strumentali, dopo l'approvazione del collegio dei docenti, hanno una funzione ben specifica in riferimento alla macroarea di intervento per la quale sono state individuate all'interno del piano triennale dell'offerta formativa. Questi docenti si pongono come figure chiave per eliminare eventuali criticità che emergono e per favorire il miglioramento continuo all'interno dell'istituzione scolastica.